Ciao ragazzi, un nuovo video di Motoreality e quest'oggi, sotto idea di Francesco Bernardi, andrò a realizzare la tier list personalissima su tutti i vincitori e non solo, oppure quelli che io definisco sempre quelli morali, ovvero quei personaggi quindi che sì hanno vinto, sia nella versione ufficiale che alternativa, quindi vari Owen Gwenn, Duncan Bet, ce ne sono sempre due per ogni stagione, da Isola Aridon Cruz Race, ovviamente quest'ultima ne presenta quattro come personaggi ma due coppie, e poi quelli per me morali, ovvero quelli che avrebbero metto la vittoria ma che per motivi che ora andrò a spiegare non sono riusciti a ottenerla. Inoltre ho inserito anche una speciale riga altri possibili vincitori, ovvero che se il cast dovesse tornare nelle future stagioni un personaggio già conosciuto, a me piacerebbe, e le possibilità effettivamente ci sono, vedere vincere certi personaggi. Cominciamo da Owen, per me Owen è l'anima del reality, c'è poco da dire, c'è poco da sperperare tempo su di lui, ogni situazione in cui lui è presente, dall'Isola a Aridon Cruz Race, ma anche limitandosi solamente all'Isola, perché parliamo di come lui ha vinto, beh, ha vinto senza rubare nulla a nessuno, lui è riuscito a farmi ridere sempre, dalla prima all'ultima battuta, perché incarna benissimamente quello che è il personaggio in un'Isola di sopravvivenza, arriva a mettersi in discussione, arriva a essere simpatico con chiunque, mai a fare un dispetto, mai una parola fuori modo, fuori luogo, fuori tema, è Owen. E' l'unico personaggio, l'unico vincitore, forse, che se dovesse rivincere, ne sarei contento, e forse anche l'unico, sto un attimo guardando, si, coincerito come anche altro possibile vincitore, lo metto già, perché penso che non stufi mai, per quanto possa essere ripetitivo, monotono talvolta, nel suo essere così maldestro, così impacciato, fa sempre ridere, ha questa caratteristica innata, anche solo stando fermo, solo nell'icona qua, nella tier liste, a me fa ridere un sacco, quindi per me la vittoria di Owen è meritata, tanto più che ne è la prima di questo grande brand di Tutoriality, e quindi doppiamente meritata. Gwen, per me ne sono indifferente, questa vittoria di Gwen non mi ha dato grandi soddisfazioni, non la ritengo pessima, a differenza poi di qualche altro personaggio che ha vinto in successiva fase o stagione. Onestamente Gwen, dalla prima o l'ultima puntata, è sempre che si è lamentata del fatto del perché è qui, ma chi gliel'ha fatto fare, se ne vorrebbe andare, e addirittura vince. Sì, lei probabilmente pensava alla fine al milione, a differenza di Owen, Owen i soldi, sì, li aspettava, ma lui guardava al divertirsi, guardava all'esperienza, Gwen invece ha sempre vissuto l'isola, perlomeno, non parliamo di altre stagioni, ma parliamo dell'isola, come vincitrice, come un posto puramente per passarsi il tempo, ma neanche vivendolo bene. Certo, ha vissuto delle belle parentesi, come quella con Trent, si è fatta in qualche modo tentare da Cody, forse c'era già un piccolo ammiccamento con Duncan, non mi ricordo bene se vi è stato durante la fine dell'isola, ma in ogni caso, tralacchiando l'apparato sentimentale, è stato un personaggio che, a livello puramente di vincitrice, non mi è piaciuto. Chi invece meritava e doveva vincere, con la V maiuscola, è Lesciana. Ovvero, avrei davvero molto più preferito una Owen vs Lesciana in finale, assolutamente. Ma il modo in cui venne eliminata, ovviamente, è stato veramente deleterio, deplorevole, mi è caduto un mito. E non Lesciana, ma Chris McLean, che ha fin da subito nell'isola, si è distinto come lo stronzo, come il capo, tutto ciò, che poteva fare qualsiasi cosa. Un qualcosa che poi mai più è accaduto, ovvero, ha preso dai voti nel dopo-show, in quello che è, nell'isola, ha fatto votare a Isikiel, Sedi, Isi, a un pappagallo, ha fatto dire il nome di Lesciana, e Lesciana è fuori, quando poi, invece, ecco, la dinamica poteva essere anche interessante, ma fatta così, veramente stupidissima. Penso, sono sincero, che questo sia un grande errore di sceneggiatura, perché si è creato un personaggio molto forte, ma si voleva far vincere a tutti i costi Gwen e Owen, e quindi dobbiamo trovare un modo per buttarla fuori. La Fresh TV sa bene che Lesciana, per come sta costruita, non poteva abbattersi come niente, e quindi si è trovato un modo in cui anche Elena rimane a bocca aperta, e tutti noi rimaniamo stizziti in questa scena. Onestamente, ecco, doveva vincere, e sono sicuro, ecco, che in una futura stagione lei avrà ancora molto da dire, qualora tornasse. Beth, per me è una vittoria meritata, perché per quanto se ne dica, per quanto a me non piaccia troppo come personaggio, e preferisca a lei Linzei, per esempio, nella coppia delle due amiche, è un personaggio che ha avuto ben tre riscatti, ben tre vittorie, secondo me, in un'unica battuta. Ricordiamo quello che era nell'isola Beth, un personaggio succube di Aether, che è stata manovrata dalla Queen del Reality. In azione, lei arriva a riscattarsi contro Aether, perché la batte anche in posizionamento, Aether arriva terza, Beth arriva prima, quindi prima vittoria di Beth. Successivamente, la vittoria effettiva del Reality, in azione, senza rubare nulla a nessuno, lei ha sempre vissuto l'esperienza giocando, in maniera determinata, ma senza creare troppe alleanze. L'unica forza alleanza che ha creato fin da subito è con Linzei, ma più che alleanza è un'amicizia. Quindi seconda. E terza grande vittoria è quella di farsi ricredere davanti a tutti che effettivamente lei non fosse una bugiarda e che era fidanzata per davvero. Il suo amato Brody, o Brady che sia, beh, non è una finzione. Io stesso lo credetti quando guardavo azione nel lontano 2010-2011, eppure rimasi stizzito. Quindi io per Beth sono contento, perché nulla rubato, preferisco Linzei, e quindi inserisco già Linzei nel doveva vincere, per me è la migliorità morale di azione. Ma proprio per il percorso, perché a differenza di Beth, Linzei si è esposta molto di più, ha avuto forse anche più battute, e poi a me Linzei piace come personaggio, a differenza di Beth che è un po' appiccicosa, e la cozza di turno, è quella un po' rompipalle. Linzei è un'oca, ok? Classica oca che rappresenta lo stereotipo di capelli biondi, occhi azzurri, figa, un po' scostumata, molto bella, slanciata, ma che in qualche modo in azione, secondo me, ha il suo picco massimo, che poi arriva a decadere nel tour e a sprofondare in All Stars, tornando scema. Ma in qualche modo in azione si fa valere, la sua forza di volontà, non più sotto manipolo di Aether, fa risaltare quello che è un personaggio determinato, con la grande forza di volontà, che per me doveva vincere. Ecco, quindi questa è un'opinione soggettiva, e la metto lì. Duncan, e sono comunque contento che abbia vinto, perché penso che tra tutte le stagioni che ha participato, sia l'unica effettivamente in cui ha meritato la vittoria, come è accaduto. Forse anche nell'isola poteva avere quella mezza possibilità, sia preferito Owen e Gwen, mi va bene lo stesso che Vinca in azione. Non ha rubato nulla, a me Duncan piace molto il personaggio, io lo dico sempre, per coerenza, è il mio personaggio preferito, ma me l'ho porto io da dieci anni, io è da dieci anni che lo penso, non da ieri. Tutti noi abbiamo un preferito, e non si può dar spazio al cuore, all'affetto verso il proprio appunto favorito. Quindi non ho manco troppe parole per spiegarmi, semplicemente è una questione puramente soggettiva. Andando a guardare quello che è il percorso del personaggio, a me è piaciuto molto. L'ho preferito in termini di simpatia nell'isola, perché la relazione con Harold, con DJ, di fatto pure con Kourtney, che è la mia coppia in assoluto, detto reality, l'ho preferita. Però pure questo tiramolla con Gwen non mi è dispiaciuto. Tra l'altro Kourtney in azione forse ha avuto la sua peggior stagione, e quindi Duncan ne ha approfittato per conquistarsi Gwen. Però in generale, ecco, devo dire che la vittoria non l'ha di certo rubata. Alejandro, ovviamente, anche lui meritata vittoria. Sì, sono tanti i vincitori a cui attribuirò la meritata vittoria, e meno male. Alejandro, così come Eder, ma parlando di lui, è arrivato nel tour come uno sconosciuto, così Chris se l'ha inserito, ma da perfetto sconosciuto si è fatto valere dalla prima all'ultima puntata. Arriverò a dire di più, secondo me, nel tour, lui è il vero stratega, il vero villain. Eder è un gradino sotto, per quanto si rivela sempre la stessa fino alla fine, in termini di determinazione e di cattiveria. Eder già la conoscevamo, e soprattutto i concorrenti sanno di che parte si è fatta. Alejandro, dal nulla, e in maniera molto intelligente, astuta, e anche creativa, secondo me, in termini di strategia, è riuscito a buttare fuori tutti quelli che voleva eliminare, soprattutto quelli delle squadre avversarie, e poi piano piano, tessendo alleanze, anche quelli della propria squadra. Quindi per me, Alejandro, vittoria meritata, dal punto di vista di gioco e strategia, forse il miglior stratega di tutto il brand, di tutta la reality. E ovviamente Eder, anch'essa, vittoria meritata, questo perché è giusto che prima o poi anche lei avesse avuto la gloria di vincere. Tutti i personaggi Icona più o meno hanno vinto, forse chi manca ancora è Courtney, ma ne parlerò successivamente, che non ha ancora vinto, ma io spero che possa avere la possibilità di vincere. Ma Eder ha fatto un percorso dalla prima stagione, dalla seconda, dalla terza, che era evidente che arrivasse a vincere. Io me lo aspettavo quasi, anche se forse la sua miglior stagione l'ha avuta all'isola come strategia. Però non ha rubato, non ha nessuno, o meglio, ha fattosi delle alleanze, ha fatto in modo di conquistarsela la vittoria, e poi ha avuto comunque come nemico Aleandro, e non di certo Duncan, Beth o Gwen, come nelle prime stagioni, ma un pezzo duro da 90, con cui poi ci si mette anche insieme, quindi formando una bellissima coppia, quindi una coppia di vincitori che l'hanno meritata. E dovendo pensare nel tour a chi poteva vincere più che doveva, forse, è Sierra. Questo perché Sierra ha avuto un sogno già realizzato, ovvero quello di entrare nel cast di Autoreality. Immaginatevi, lo dirò sempre, ogni volta che parlo di Sierra, se tu, o se il tuo amico, viene preso ad Autoreality. È una roba di finzione, utopia, immaginaria, ma proviamo un po' a divertirci insieme ogni tanto. Immaginatevi io che vengo preso ad Autoreality. Sogno realizzato, perché io amo il programma, lo guardo, come se fosse il grande fratello, e vengo scelto, quindi già Sierra emozionatissima. E durante poi tutta la stagione si riesce a far valere, e non solo con Cody, ma anche riesce a tenere testa a Aether, a Gwen, a Kurt, insomma la squadra delle Amazzoni. È una squadra molto complessa, molto articolata, piena di carichi da 90, insomma personaggi che tutti fra di loro, forse meno che Cody, arrivano a scontrarsi e pensare chi sia il primo ad uscire, chi sia l'ultimo, non era così scontato. Quindi per me Sierra ha avuto un gran percorso, poi comunque la relazione con Cody in qualche modo l'ha consacrata, sia in positivo che in negativo, perché c'è chi ama la follia Sierra e c'è chi la odia profondamente. Io se vuol dire la tutta, forse non più verso quelli che la ama, per il fatto che, ricordiamo che è una fan prelevata prelevata dal gruppo di persone a caso e quindi sono contento per lei. In All Stars viene poi rovinata, questo sì, perché a quel punto troppo stroppia ed esagera verso un Cody che non c'è, riconoscendo Cameron come Cody, non si sa il motivo, per ossessione sua, però ecco, nel tour, se c'è una persona dopo Eder, dopo Alejandro, che più che doveva, poteva vincere, questa è Sierra. Cameron, pessima vittoria, forse è uno dei pochi, se no l'unico, vedremo, che davvero può definirsi un vittorioso Ebo, non lo sa manco lui. È un personaggio che a me piace, non dico che non mi piaccia, è un misto però fra personaggi già visti, un mix di Harold, di Jay, forse anche un po' Jeff, nel senso di simpatia, però non mi piace. A me non piace il modo in cui ha vinto Vendetta, meritava molto di più Scott, infatti ne parlerò, perché è il protagonista in cui tutto gira attorno, meritava più Mike, Zoe, sì che ha poi vinciato in All Stars, ma parlano di Vendetta, meritavano più loro, più Lightning. L'unica mossa che mi ha un po' convinto è la sfida finale. Cameron ha meritato di vincere la sfida finale contro Lightning, per quanto mi riguarda, anche per l'idea del costume, del supereroe che ha portato in finale, ma nel percorso è sempre rimasto ombra, ha fatto molto la candela, come si suol dire, alla coppia Mike, Zoe, dando consigli di qua e di là, facendo l'amico sia una parola che dall'altra, conquistandosi dunque questa alleanza, amicizia, con i due fidanzati o presunti tali, ma ecco, molto nell'ombra, mentre gli altri si esponevano, come Joe, Lightning, Brick, si ammazzavano fra di loro, Scott stesso, e Cameron è stato totalmente furbo, secondo me, da non esporsi troppo, e forse l'ha anche detto, mi pare che nella sua frase ci sia, nella sua battuta, ovvero che, non esponendosi, anche questa è una strategia, e lui l'ha ammesso, ha fatto in modo di non portare alla sua eliminazione, senza farsi esporre, quindi non si è fatto notare, però quindi non è una posizione da vincitore, ecco, non sei stratega, ma sei semplicemente furbo, un po' una volpe, che però a me non piace, Lightning, sono indifferenti questa vittoria, non è meritata, perché secondo me, chi doveva vincere, è Scott, parlo prima di Scott, per me Scott è un personaggio, che potenzialmente, non l'ho inserito qua, ma potrebbe tornare, potrebbe anche arrivare, a togliere qualche soddisfazione, penso che a Scott manchi l'amore, e in questo caso, Courtney potrebbe essere, la sua dolce metà, ma, se guardiamo vendetta, io penso a questa stagione, penso a Scott, se togli Scott, togli la metà delle dinamiche, sì che Scott è stato cattivo, molto stronzo, forse molto più che Aether, in termini di cattiveria, molto subdolo, però, se non ci fosse stato uno come Scott, avremmo visto una stagione, molto più sotto tono, e quindi, Scott per me, doveva vincere, e si è preferito far vincere, Lightning e Cameron, dove se Cameron, non mi ha davvero detto niente, Lightning perlomeno, si è esposto molto di più, si è creato un personaggio, quelle Shabadam, Shabzam, Shabadabadum, insomma, quei cliché anche, come a far capire, che lui si è esposto, lui ha creato contatti, con gli altri, Cameron no, è questo che crea, la grande differenza, però, la vittoria, non la merita uno, nell'altro, per me, ecco, doveva vincere Scott, piuttosto Mike o Zoe, che poi vinceranno, comunque, i All Stars, e parlano proprio di All Stars, ovvero Mike, Zoe, allora, per me, tra i due, chi ha merito la vittoria, è Zoe, e lo dico, io Zoe l'ho tanto rivalutata, forse nella prima tier list, che realizzai, legata proprio a All Stars, non la misi tra i migliori, non mi ricordo, ma ho come questa sensazione, negli ultimi tempi, ho potuto guardare nuove scene, dei riassunti, dei focus on su di lei, qualche pagina Wikipedia, e effettivamente, Zoe ne ha subite molte, durante le sfide, ma è riuscita, sempre, in maniera dritta, ferrata, rigida, convinta di sua potenzialità, ad andare avanti, tenendo conto, che è follemente, innamorata di Mike, e riesce, comunque, a gestire, e ad amare, accettare Mike, in tutte le sue forme, ricordiamo, siamo in All Stars, e quindi, lei riesce ad accettare, talmente innamorata, anche della forma di Mal, che è la sua forma peggiore, in termini di cattiveria, e forse la migliore, in termini di stratega, e di reality, proprio come giocatore, quindi Zoe, per me la vittoria, se l'è meritata, anche per dare sfogo, a quello che sono, le sue passioni amorose, verso Mike, di Mike, sono indifferente, perché se pensiamo a Mike, come personaggio, è veramente anonimo, se pensiamo a Mike, come tante identità, tanti altri reghi, diventa un personaggio, super particolare, ovvio, bisogna guardare, quello che è tutto, e non solamente, quello che è una parte, ovviamente, ma, se dovessi dire, Mike, sì, Mike, no, mi è indifferente, chi secondo me, poteva vincere, però a questo punto, si sfatava un po' il tabù, della seconda vittoria, in due stagioni, è Gwen, perché la stagione di Gwen, qui davvero, mi è piaciuta, molto di più, dell'isola, lei qui, si è messa in gioco, si è messa in mostra, è riuscita comunque, anche a scaricare Duncan, in maniera perfetta, visto dopo ciò che stava facendo, è riuscita a ricrearsi, l'amicizia con Courtney, è riuscita anche, in qualche modo, a creare nuove amicizie, con Zoe, Mike, finché c'era Cameron, quindi per me, ha avuto un bel percorso, sempre migliore, nell'isola, forse, è stata la sua stagione peggiore, poi a salire con il tour, è perfetta, per me, in All Stars, quindi, Gwen, più che doveva, poteva vincere, poi, meno male che non ha vinto, perché io, non sopporto, non avrei sopportato, rivedere, un personaggio, dopo pochi anni, di vincere, eccezione fatta per Owen, è l'unica eccezione, che appunto, non deve fare la regola, ma rimane, una particolarità, che già ho spiegato, parlo di Sean, Sean merita la vittoria, assolutamente, questo perché, il suo personaggio, l'ha reso, così particolare, da essere unico, lui è uno zombofobo, quindi già una cosa, super strana, particolare, in cui ha paura degli zombie, e quindi si rintane, in questa grotta, e vive lì da solo, dorme da solo, è un tipo solitario, è un lupo, solitario, che però, lo è solamente, quando deve dormire, lo è nelle dinamiche, quando lui, ne è messo fuori, ma quando si parla, di giocare con il gruppo, a me piace molto Sean, perché mai si tiene indietro, eppure, questa sua solitudine, questo parere degli zombie, dovrebbe essere un suo limite, di fatto, lo capovolgi un po', in un suo punto di forza, perché riesce a farsi amare, per quello che è, quindi io Sean, lo amo, tra l'altro, non si fa influenzare, mi ricordo, forse, mi ricordo male, ma, provo a rimembrare con voi, che anche Sugar, che è un po' la villain, di Pakitev, provò, a, farsi alleanza, amico con Sean, ma Sean, in qualche modo, gli diede picche, fin da subito, perché Sean disse, ognuno per la sua strada, e dopo tutto, anche quando le squadre vennero sciolte, quindi, per me Sean è rimasto coerente, fedele, e leale, soprattutto, onesto, con reality, e con se stesso, e poi l'amore con Jasmine, comunque, è una coppia che mi piace, molto atipica, anche solo per, la statura, per l'aspetto fisico, e per il carattere, Sky, pessima vittoria, io ce l'ho ancora qui, per quanto sia la ragazza, che si è impegnata di più, insieme a Sugar, ma forse anche più di lei, in questa Pakitev, in questa stagione, a me è rimasto qua, il fatto, che non abbia detto a Dave, durante reality, che fosse fidanzato, non, non mi piace per niente, questa cosa, a me non piace, né Dave, né Sky, ma fra tutti e due, chi ovviamente, ha più sbagliato, è Sky, perché, alla fine, solamente si capisce, il motivo, del perché Dave, era così, forse preoccupato, del perché Sky, non si tentasse a lui, effettivamente è vero, Dave ci prova tanto, a conquistarsi Sky, ma Sky, è sempre col freno a mano, perché sa di essere fidanzata, ma non riesce mai a dirlo, cavolo, dicevi subito, e finiva lì la situazione, quindi, per me è un percorso anonimo, perché in Packet, ci sono stati tanti altri protagonisti, secondo me, migliori di lei, come appunto, Sean, Jasmine, Max, Scarlett, Sugar, forse anche Dave, migliori di Sky, per certi diversi, per quanto mi riguarda, i termini di percorso, non di personaggio, come personaggio, a me Sky è piaciuta, per come sta realizzata, ma, come vittoriosa, no, ecco, chi doveva vincere, per me è Jasmine, però, a questo punto, si è voluto creare, una coppia contro l'altra, non si poteva mettere, Sean contro Jasmine, ma si è voluto creare, questo cliché narrativo, utilizzando Sean, contro appunto, Sky, e quindi contro Dave e Jasmine, è voluta la cosa, ovviamente, forse il fatto, che si hanno creato, troppe coppie, in questa stagione, guardando anche, Max e Scarlett, in un cast, così ristretto, ha creato, poche dinamiche, di eventuali, tradimenti, lasciati, sì, poteva anche lei vincere, ma a posto di Sean, ecco, non ce l'avrei vista, contro Sean, per qualche punto, Sean avrebbe comunque, meritato la vittoria, andiamo a Ridonculus Race, sapete, io quanto odio, McArthur, e quindi, la butto in pessima vittoria, qui voglio parlarmi, proprio di concorrenti, individuali, anche se è una coppia, anche se due concorrenti, ne fanno uno, in Cosmo Ridicola, ma, voglio davvero, soffermarmi, sul concorrente, sul personaggio, per me McArthur è un personaggio troppo contraddittorio, l'ho sempre detto, e non smetterò mai di ripeterlo, è un personaggio che si reputa un sergente, un aspirante militare, un allievo maresciallo, ma si vanta, allo stesso tempo, di essere stato un narcotrafficante, di avere la finita penale sporca, di essere un personaggio che, nella sua adolescenza, quindi parliamo di pochi anni prima, non così tanto, ha avuto gravi disguidi con la legge, in teoria, ecco, non si potrebbe diventare militare, almeno in Italia, poi non so, in Canada, con tutta questa fegdina sporca, e poi anche il modo in cui vive l'avventura, troppo improntata, verso la vincita, e a me, chi gioca solo per vincere, in termini di arrivare alla vittoria, senza analizzare un minimo le dinamiche, senza creare, e lasciare qualcosa agli altri, non mi piace, ma questo in ogni reality, io preferisco che vinca un personaggio, un concorrente, che non mi piaccia, ma che abbia creato dinamiche interne, a me Beth non piace, l'ho detto, l'ho già detto più volte, ma, per il modo in cui però è arrivata a vincere, e beh, oggettivamente, è una grande vittoria, McArthur invece, non mi ha detto niente, di Sender, se sono indifferente, dovrei rivederla, ecco, è quel tipo di personaggio, che mi piacerebbe rivedere, McArthur no, perché ho questo odio profondo, personale ovviamente, Sender, è stata molto la sua ombra, solamente in 2-3 sfide, su 26 puntate, forse Sender si è maggiormente esposta, ha provato, no, neanche lei, ma McArthur, a conquistarsi Brody, quindi Sender proprio non ha fatto niente, né un po' la ombra di McArthur, però perlomeno è leale, è onesta, lei non si vanta, di aver fatto crimini in passato, perché si evince, che non abbia fatti, e quindi, rimane fedele al personaggio, di un aspirante militare, ne sono indifferente, non so, se la rivedremo mai, la preferisco a McArthur, ripeto, ma una vittoria, ecco, di coppia, non saprei dire, se effettivamente, possa meritarsela o meno, perché, o tutte, due, o nessuno, Jeff, assolutamente meritata vittoria, è quel tipo di personaggio, che fin dall'isola, io speravo vincesse, perché Jeff, alla fine è innocuo, è allegore, è simpatico, è spensierato, mai litigioso, ha trovato l'amore con Bridget, quindi già una grande vittoria, ha condotto il dopo show, che per me anche quella, è una grande sua vittoria, quello di essere un personaggio, all'infuori del reality, ma che possa condurre, un dopo reality, mancava la vittoria, ed è arrivata dunque, in Ridonculus Race, e quello che però, non mi è piaciuto, è il modo in cui Jeff ha vinto, ovvero da ripescato, ed è un peccato, sì, a livelli di trama, mi piace, il fatto che venga ripescato, un personaggio, una coppia comunque, perché mai accadde, che poi arrivo anche a vincere, le volte in cui vengono ripescati, i personaggi, parliamo di Eva, Easy o Courtney, ma poi non arrivano a vincere, ed è un po' una beffa, perché immaginatevi, appunto, chi pensava, Jeff e Brody, di vederli fuori per sempre, perché li odia a priori, non piacciono i personaggi, vengono senza meriti sportivi, ripescati, e addirittura arrivano a vincere, ecco, su questo punto di vista, la vittoria, non è che se la sono meritata, in termini tecnici, ma come percorso, Jeff ha incoronato, per me, una carriera, di concorrente, perfetta, è l'unico personaggio, che ha vissuto l'amore, in termini proprio, concettuali, estesi, perché lui, per me, con Bridget, forma una coppia, effettiva, di fatto, da avere anche dei figli, oggi, domani, dopodomani, insomma, da avere una famiglia, in pianta stabile, ha condotto il dopo show, ha vissuto l'isola, ha vissuto il ridonclus race, quindi ha potuto vedere molte più contesti, tanti personaggi, per me, Jeff, un gran personaggio, sono indifferente di Brody, ma questo perché, per me, è la fotocopia, l'ombra di Jeff, tutto qua, non c'è altra motivazione, il fatto che, a fianco a Jeff, ci sia un personaggio, che sia la sua fotocopia, sono battute rubate, l'ho già detto, in una scorsa tier list, a volte poi mi ripeto, ma d'altronde, sono sempre loro che girano, ho preferito molto più Jeff, per me Jeff è unico, Brody, ne ho un po' la sua copia, che però funziona, ecco, ne rimango indifferente, ma la vittoria, non l'ha di certo rubata, e chi invece meritava, ecco, che doveva vincere, la coppia, è Josie, e Jax, assolutamente, più Josie, forse, perché in questo caso, la coppia funziona, grazie a lei, io sono sicuro, che se si metta a confronto, Josie con Aether, in un reality, non saprei, chi potrebbe essere la Queen, arrivo ad avere questo dubbio, perché non è detto, diamo per scontato, che Aether, sia la persona più viscida, più subdola, più stratega, ma per me Josie, funzionerebbe, tanto quanto, se non di più di Aether, quindi, sì, ti devo rivedere, vorrei rivederti, dubito, perché comunque, non ce la vedo, non ci vedo neanche Jax, sono due personaggi, che, sono sempre in giro, per competizioni, vogliono sempre vincere primati, quindi, perdere tempo, in un ennesimo reality, per poi magari, non vincere, perché a quel punto, o me li fai vincere, o, allora davvero, sono inutili come personaggi, a quel punto, non ce li vedo, per cui, dovevano vincere, la loro possibilità, l'hanno avuta, in Cosmo Ridicola, che tra l'altro, mi sono rivisto le statistiche, 16 podi su 25, vuol dire, che su 25 puntate, nelle prime altre posizioni, arrivarono, per 16 volte, i Jax, e di quelle 16, 8 volte, i pattinatori, arrivarono primi, primato assoluto, per quelli che si definiscono, gli eterni secondi, eppure arrivarono secondi, effettivamente, e ora, parliamo, dopo Owen, quelli che sono, secondo me, altri possibili vincitori, come avete visto, c'è un grande squilibrio, perché ho avuto fatica, a trovare personaggi, che non siano del cast originale, dei primi, due, tre cast, questo perché, dei restanti, due stagioni, vendetta, e pacchetev, con relativi cast, non ho trovato nulla di che, ecco, non ho trovato personaggi, che davvero, mi possono in qualche modo, incuriosire, tanto da farli vincere, Eva, assolutamente, merita una vittoria, per far capire a tutti, quella che è, per me, Eva, è come Leshan, che comunque, già inserisco, perché già ne parlai, è un personaggio, che non ha avuto modo, di esprimersi, molto meno di Leshan, ma che davvero, meriterebbe, un'altra possibilità, in primis, assolutamente, e perché no, di ambire al podio, perché le possibilità fisiche, le ha, mentali anche, forse quello che le manca, la relazione, la strategia, lei guarda solo se stessa, è molto egoista, e poi, in reality, ha fatto di votazioni, si elimina la persona, che precisa di antipatica, e Eva, è antipatica a tutti, e quindi prima eliminata, ma, secondo me, se entrasse, con uno spirito, un pochino più dolce, anche fintamente, quindi, in qualche modo, farebbe, la finta amica di tutti, quando però invece, è una gran incazzata, che vorrebbe spaccare tutto, mi piacerebbe, farmi vederla vincere, Leshan appunto, già detto, per me, la possibilità di vincere, ce l'ha ancora, anche se, palesemente, l'ha avuta già nell'isola, Harold, per me è un personaggio, innocuo, tranquillo, che mi fa sganacciare da ridere, simpatico, umile, è il classico sfigato, che rimane coerente, e fedele, che non vedo da troppo tempo, così come altri personaggi, ovviamente, così come Leshan, di fatto, un personaggio, che lo voglio rivedere, sui teleschermi, manca dal tour, e nel tour, ha fatto una figuraccia, quindi, diciamo che, la sua bellissima stagione, l'ha avuta nell'isola, anche in azione, si è fatto valere, ma principalmente, nella prima stagione, non poteva vincere, perché, le dinamiche si erano create, lui era un po' quello, preso in giro, insomma, vedere vincere Arnold, nell'isola, forse, non era così meritato, non lo sarebbe stato, ma, in futuro, perché no, sarebbe davvero simpatico, vedere un personaggio, anche qua, in ottica di riscatto, che potesse dire, di vincere, appunto, da sfigato, che è, un reality, Trent, per me, merita una vittoria, oltre a una seconda possibilità, perché, dopo l'isola, non si è più visto, sì, in azione, ma, cancelliamo azione, per quello che ha creato, però, tenendo conto, quello che è l'isola, lui, la possibilità di vincercela, perché lui è un ragazzo modello, è un ragazzo, che tutte le mamme, delle loro figlie, vorrebbero, come fidanzato, appunto, per le figlie stesse, è un personaggio, che si è rovinato, sì, in azione, ma per suo volere, manco per volere di Gwen, basta parlare, tutto sarebbe finito, si è impuntato, si è intestardito, e ha avuto quel problema, ecco, un po', di fare una grande figura, di, però, una possibilità, gliela darei, a priori, come Eva, e perché no, farlo andare avanti, secondo me, ha ancora molto da dire, e magari, può ambire, a qualcosa di grosso, Lindsay, per me, rimane una papabile vincitrice, l'ho già inserita, nel doveva vincere, la possibilità, grandissima, l'ha avuta in azione, poi, ha avuto anche la possibilità, nel tour di partecipare, ma, ha fatto poche niente, in all stars, pochissimo, nient'altro ancora, non so se la rivedremo, rimane un'icona, perché, forse, insieme, appunto, a Courtney, che ora parlerò, e insieme a Lesciana, è quella, parlano di femmine, che davvero, meriterebbe, un'altra possibilità, non, per forza una vittoria, ma, almeno, una possibilità, per quanto, già ne abbia avute tante, l'inizio, perché ha parecipato, ha ben quattro stagioni, ma è un evergreen, non muore mai, come personaggio, sta sempre bene, in una situazione, Courtney, grande esclusa, che voglio, inserire, nella prima, posizione, per gli altri, possibili vincitori, penso che, tra tutte le icone, se, ristringiamo il campo, alle top 5, icone, di tutoriality, abbiamo, Owen, Duncan, Heather, Gwen, e Courtney, Courtney, non ha avuto, modo di vincere, dalla prima, all'ultima stagione, nell'isola, viene fatta fuori, per colpa di Harold, e comunque, per colpa di dinamiche interne, quindi, non perché, non se lo meritassi, di andare avanti, in azione, viene ripescata, e forse ha avuto, la sua peggior stagione, perché viene vista, molto come viziata, molto come figlia di papà, che ha i soldi, non mi è piaciuta, nel tour, è stata un po' nella massa, diciamo, della squadra, si è fatta valere, ma non troppo, infatti, fra quelle che, ecco, dovevano uscire, l'equità per prima, mi pare, della squadra, non va derrato, ma in ogni caso, nella squadra delle amazioni, Kearney forse era l'anello debole, perché, ecco, non si è fatta molto valere, in All Stars, comunque, ha avuto una grande possibilità, di tornare, e tra l'altro, mi è piaciuto molto, la sua relazione con Gwen, io sono pro, a questa nuova amicina rifiorita, per me, Kearney ha avuto, la miglior relazione di sempre, con Duncan, nell'isola, però, vittoria, Nisba, neanche il podio, neanche lontanamente, il suo miglior piazzamento, è stato in azione, sì, ma perché viene ripescata, ma come entra, esce, quindi, fa poco, e anzi, si fa odiare, però, una possibilità, io la darei ancora, per quanto, già parecce, può, a quattro stagioni, ma una possibilità, di arrivare, almeno sul podio, e perché no, vincere, Joe, è l'unico personaggio, che reputo, possa avere una possibilità, di vittoria, qualora tornasse, del cast, di Veneta dell'Isola, onestamente, pensavo anche a Brick, pensavo a Don, a Namaribi, personaggi che, simpatici, vorrei tornasse, qualcuno, ma addirittura, vederli vincere, no, non hanno, non hanno, con lo spirito di vittoria, per tante ragioni, Joe, invece, è un'Eva, che di più ci ha creduto, un'Eva, molto più strategica, molto più, anche disponibile, gentile, con gli altri, insomma, crea relazioni, dinamiche interne del gruppo, però non vince, perché in quella stagione, vi è Scott, come nemico principale, e quindi, viene fatta fuori, in qualche modo, anche un po', sotto ombra di Scott, però, perché no, se dovessi pensare a un personaggio di vendetta da far vincere, direi Joe, e se devo pensare molto tirato, molto forzatamente, a un personaggio che debba vincere, di Pakitev, questa è Emy, è l'unico personaggio, che davvero vorrei vincesse, vorrei tornarsi in realtà, di Pakitev, sì, mi piacerebbe anche Max, ma Max, vederlo vincere, assolutamente no, mi piacerebbe anche Jasmine, ma la sua possibilità, l'ha avuta, secondo me, in Pakitev stessa, e di più, non può fare, Emy, invece, è quel personaggio, che secondo me, se la può battere, con Eder, e Josie, per il primato di Queen, della nuova, ipotetica stagione, è un personaggio, che abbiamo visto poco, ma molto cattivo, non fisicamente, non arriva proprio, a fare del male agli altri, o a dar fastidio, perché lei principalmente, c'era con la sorella, ma pur di primeggiare, lei è disposta a tutto, è disposta a infangare la sorella, è disposta a creare, dei distrini interni, quindi è un bel personaggio, un personaggio che sa, secondo me, le dinamiche del reality, e può farcela, a vincere, però, ecco, molto forzatamente, perché è un personaggio, che ha vissuto, in tutto il brand, 4, 5 episodi, e quindi, vederla vincere, forse non ha tutto, questo fandom dietro, ragazzi, ho la bocca, che mi si è seccata, la lingua, che sta andando, per i fatti suoi, spero che questa, ti è lì, vi sia piaciuto, non so, se ci rivedremo, domenica prossima, finché mi vedete, io ci sono, le idee, stanno finendo, ma è questo, è già da un po' di domenica, che lo dico, ma finché, c'è anche quel barlume, di speranza, voi nei commenti, consigliatevi, io posso provare, a fare ancora qualcosa, detto ciò, io vi saluto, link telegram, per il gruppo, in descrizione, siamo in 190, almeno oggi, in cui, sto registrando, un numero pazzesco, di amanti del reality, e spero che, possiamo continuare a crescere, per il bene del reality stesso, ciao ragazzi, alla prossima, tornare a crescere, a crescere,